Lo Stato italiano è impazzito. Oggi vota lo svuota carceri che fa uscire 20.000 delinquenti veri che torneranno a rapinare e uccidere. Cancella il reato di migrazione clandestina che ci esporrà una vera e propria invasione e poi mette in galera 20 persone che parlano di indipendenza, di autonomia e che stanno tramando per trasformare un trattore in un carro armato. Io lo faccio collego, io i carri armatini li costruisco collego, ho in cantina una fionda e sono indipendentista, quindi mi consegno, al di là degli scherzi, siamo alla follia, al mondo alla rovescia, domenica alle ore 18 a Verona chiamiamo raccolta, tutta la gente che vuole che il pensiero sia libero, sia libero, non intercettato, non incarcerato, usiamo i carabinieri per arrestare i mafiosi, non per arrestare le idee.